11 di febbraio per questo nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa e il nostro TG mattino anche quest'oggi per dare un'occhiata ai quotidiani il Corriere dell'Umbria, la Nazione, il Messaggero e anche il nostro sito internet www.trgmedia.it sempre molto aggiornato e naturalmente con una notizia potremmo definire dell'ultima ora sul nostro sito internet www.trgmedia.it che non potrete trovare sui quotidiani perché è avvenuto questa notte proprio con l'ultima votazione era passata da poco l'una di notte quindi i giornali non possono averla la notizia del nostro concittadino di Michele Bravi che approda in finale c'è stato ci sono state anche molte polemiche poi per le votazioni perché sono usciti quattro big è uscito Albano Gigi D'Alessio, è uscito Ron e Giussi Ferreri e invece come dicevamo il nostro Michele Bravi con una canzone che sta riscuotendo un grandissimo successo su YouTube è la terza più scaricata in questo momento da YouTube è volato in finale quindi naturalmente c'è grandissima soddisfazione sui vari social per questa notizia di Michele Bravi in finale a Sanremo in bocca al lupo a Michele e andiamo con la nostra rassegna stampa dicevamo poi sul nostro sito potete trovare naturalmente tante notizie aggiornamenti continui e naturalmente i filmati dei vari servizi andati in onda le nostre tg e anche trasmissioni mandiamo i quotidiani il Corriere dell'Umbria quadrilatero incrocio pericolose questo il titolo del quotidiano un'assunzione nella società per le nuove strade tra Umbria e Marche fa finire nell'occhio del ciclone il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Del Rio vedremo poi all'interno colpo di spugna sulle multe a Terni difetti nell'ordinanza il prefetto annulla tutte quelle del varco di via Corona vecchio ospedale tetto a rischio a città di Castello poi ancora progetti per il verde a Perugia caccia a di sponsor e poi per lo sport Grifo parla a Falcinelli ferre l'urlo di Zanon in attesa del derby e per il volley Sir ora è ufficiale triennale al palesiatore argentino Luciano De Cecco questa è la prima pagina dalla prima pagina della nazione Dante sette anni senza giustizia Brunetti venne arrestato per aver ucciso la moglie che però morì di polmonite sisma e media confronto tra Guarducci e il presidente dell'ingv Doglioni da verità sulle scosse e ci parla poi l'esplosione di Baiano Melissa torna a casa un miracolo il derby controlli straordinari la partita liberati tra Ternana e Perugia e ancora estrae il coltello e si scaglia contro gli agenti paura in piazza Dante a Perugia mini metro ora la regione taglia i fondi trasporto pubblico soldi e polemiche la prima pagina del messaggero guerra alla droga presi sei boss offensiva della polizia all'interno dell'operazione pusher lanciata a livello nazionale fermati super spacciatori questure carabinieri intercettati tre chili di droga tra Perugia e Assisi con le strada polo commerciale più grande per l'IKEA ancora ma loro in pista da ballo hanno spruzzato spray al peperoncino a Perugia alcune persone in un locale soccorse dal buttafuori caso Gesenu CDA in pezzi Rominsi fa il pompiere poi Festival di Sanremo in cima a iTunes come dicevamo con bravi e già privato già un primato la semifinale conquistata in scioltezza la cover affrontata con la sicurezza di un veterano e questo della serata dell'altro ieri quando ci fu la cover con un pezzo straordinario di battiato e ancora cassa integrazione e la pausini per i baci Perugina prosegue l'attuazione del piano varato la scorsa primavera per il meteo come quotidianamente nella pagina Umbria del Messaggero pronti per il ritorno dell'alta pressione weekend con nuvolosità tra il variabile poco nuvoloso ma in un contesto di temperature gradevoli di giorno e fredda di notte ma senza precipitazioni da lunedì consolidamento dell'alta pressione questo per le prime pagine dei quotidiani andiamo all'interno iniziamo con il Corriere dell'Umbria la nostra carrellata andiamo a dare un'occhiata all'interno quindi l'infornata della quadrilatero assunto il compagno della segretaria particolare del ministro delle infrastrutture del Rio la società doveva sparire invece ancora al suo posto nel 2015 era stata deliberata la fusione per l'incorporazione in ANAS però si sono opposti i maceratesi il caso già alla Camera a chiarire tutti gli aspetti la polemica sollevata dai quotidiani e dagli siti online busta pesante si cambia ecco le novità da ieri è entrata in vigore la correzione normativa introdotta dal governo che permette la sospensione tributaria a chi ne ha davvero diritto il punto sul decreto e c'è per il caos trasporti un esposto dei pendolari alla corte dei conti sui soldi dei disservizi il portavoce del coordinamento dei comitati Umbri Gianluigi Di Giusti e il ternano Massimo Magistrelli scrivono alla magistratura contabile Perugia Firenze l'abbonamento costa 23 euro in più Senza tetto il piano arriva tra un anno dopo la discesa in campo del cardinale Bassetti i progetti della regione e del comune di Perugia le nuove emergenze Si torna a parlare della Val Nestore via libera ai due carotaggi sul dente del lago fissati per lunedì i sondaggi ai margini dell'invaso artificiale di Pietrafitta il comitato chiede altre verifiche Andiamo con l'interno del quotidiano il Corriere dell'Umbria con le pagine di Perugia aree verdi a caccia di sponsori il comune farà da intermediario per i progetti presentati dalle associazioni che necessitano di finanziamenti si rivede la convenzione Piazza Nuova e il futuro passa qui all'incontro promosso dall'associazione Per Perugia e Oltre ribadita la centralità del rilancio di Fontivegge e si parla poi di cronaca la caccia ai pusci è scatta nel weekend 100 dosi trovate nascosti in un'auto un chilo di asci si è scovata a pretola paga l'operazione ad alto impatto lanciata dal Ministero intanto vuole cambiare 400 euro false Ucraina bloccata in un negozio l'esercente si è insospettito per l'insistenza della ragazza questo per il Corriere dell'Umbria che ritroveremo tra poco naturalmente con le pagine dedicate ai comprensori che prendiamo in esame iniziamo ora con la Nazione derby comune regione sul minimetro niente contributo sfida anche su pretola tensione alle stelle piazzale della scuola invaso da auto a rischio la sicurezza dei ragazzi paletti divelti sbarra fuori uso veicoli davanti all'uscita di sicurezza questo per Perugia intanto cade sul marciapiede sconnesso ex vice sindaco chiede i danni questo sempre a Perugia fermato in centro per un controllo aggredisce gli agenti con il coltello paura in piazza Danti il tunisino è arrestato per resistenza il calvario intanto di Dante Brunetti da sette anni senza giustizia venne arrestato per l'omicidio della moglie morta di polmonite l'avvocato David Furia che assiste Brunetti parla di una vicenda che ha dell'incredibile via del Parione come la zona rossa siamo isolati dal resto del centro in palcatura e strada sbarrata dopo il sisma la rabbia dei residenti ora la USL bacchetta agriflor i cattivi odori provocano ansia emissioni non dannose ma sono necessarie nuove verifiche intanto Nilo Arcudi socialisti si dimetta da consigliere comunale questo è quello che viene richiesto Guarducci INGV è pace fatta ma adesso collaboriamo annullata la protesta davanti alla sede dell'istituto API Umbria associazione per le imprese sottolinea come i danni indiretti al turismo si riverberino sulle attività artigiano e imprenditoriali la crisi legata al terremoto tocca le attività turistiche ma si allarga tutto l'indotto e si parla quindi anche di questi argomenti andiamo con il messaggero all'interno così ampliamo con le strada ecco lo spazio per l'arrivo di Ikea annuncio Eurocommercial acquistato in terreno adiacente al centro commerciale il fondo orlandese in tanti vogliono venire anche marchi internazionali intanto Perugia-Ancona due giorni di mezza chiusura un giunto è K.O. Poche settimane fa anche l'altra parte della strada la stessa situazione nello stesso tratto tra Valfabbrica e Casa Castalda Umbra-Acque licenzia due dirigenti intanto Perugina Cassa Integrazione e la scommessa sul Pausini Frana di Preto la regione tocca al comune lavori in centro mattina da brividi chiusa via Alessi per stendere la fibra la ruspa rompe una conduttura dell'acqua traffico deviato e blocchi la società operaia di mutuo soccorso attacca il centro sembra essere diventato una groviera sale da gioco lontane dalle scuole stop a quella di Portapesa c'è il nuovo regolamento distanze minime obbligatorie dai luoghi che vengono definiti sensibili guerra alla droga fermati sei boss operazione pusher della polizia stroncato il giro criminale di sei trafficanti ampliamente radicati tra capoluogo e provincia pretola bloccato marocchino con l'auto piena di hashish decine e decine di dosi pronte ad essere spacciate nella zona intanto assisi due richiedenti asilo presi con due chili di marijuana questo per le pagine del messaggero andiamo quindi a riprendere il nostro giro con i quotidiani riniziamo dal corriere dell'Umbria le pagine dei comprensori che prendiamo quindi in esame iniziamo con le notizie da Assisi e Bastia Umbra ha salvato centinaia di ebrei dagli stenti adesso una vita per scusate una via per don Aldo Brunacci nel corso dell'incontro proiettato un video inedito ricco di spunti interessanti e si parla poi di Bastia Umbra ha sede cercasi per sposarsi serve una struttura alternativa alla sala comunale i privati si facciano avanti andiamo con le pagine da Città di Castello il tetto scricchiola il vecchio ospedale sempre più malato mentre si susseguono gli incontri sul futuro dell'ex nosocomio si teme il crollo della grande copertura durante il periodo invernale intanto il sindaco Bacchetta resta ottimista segnali positivi per il recupero Montesca nuovo round rovente faccia a faccia tra campeggiatori comune e Afor ci sono c'è anche qualche novità Conad all'ex hotel moderni il progetto è già in comune ad Umbertide il promoter immobiliare esce allo scoperto e attende il risponso dell'amministrazione ancora polemica all'interno del PD di Umbertide gli espulsi e purati e caos nei giovani PD gli espulsi dalla segreteria spiegano le loro ragioni in un documento di fuoco Gubbio area archeologica della Guastuglia da sciogliere nodi viabilità ai parcheggi il ritrovamento di reperti ha cambiato i progetti sul tema intervenuto anche il PD intanto questa sera al parco hotel ai cappuccini a Gubbio i ceraioli santubaldari si danno appuntamento per il veglionissimo galleria di risarita verso l'acropoli bocciata da Gubbio facentro l'associazione vuole incontrare l'amministrazione andiamo con la pagina di Gualdo Tadino e Nocera taglio del nastro per la mostra dedicata alle maschere della commedia dell'arte cerimonia alle 15.30 la roccaflea a Gualdo Tadino appuntamento promosso da edizioni frate indovino e ancora svincolo di scopoli per la pagina di Foligno doccia gelata il governo risponde all'interrogazione di Lafranco Forza Italia non è tra le opere prioritarie occorre rifare il progetto intanto 5 lavoratrici scioperano ma vengono sostituite la CGL tuona sul caos delle cuoche dell'OMEC che protestano per straordinarie cariche di lavoro e i ferrovieri disertano la mensa per solidarietà il Corriere dell'Umbria lo ritroveremo tra poco con le pagine dedicate allo sport molto ricche come tutti i sabato naturalmente andiamo alla Nazione all'interno per vedere le pagine che prendiamo in esame Assisi Bastia Todi risiedono scusate si parla del blizza ad Assisi richiedono asilo ma sono pusci arrestati con due chili di droga i carabinieri smascherano una coppia di nigeriani Sorrentino gli 11 anni da vescovo ad Assisi e poi ancora a Santa Maria alla benedizione dei trattori donazioni devrute al pediatrico Meyer Gubbio hotel e ristoranti record di disdette ma adesso non lasciateci soli Gubbio perde il 70% di prenotazioni serve un piano straordinario abbiamo bisogno di misure di carattere fiscale promozionale organizzativo appello alla regione rispetto dei ruoli e stop ai dualismi a Gualdo Tadino giochi delle porte proposte e polemiche da città di Castello rendere le scuole più sicure partono cantieri per 6 milioni va avanti il piano di adeguamento e con gli istituti interessati stamani intanto l'inaugurazione della sede ristrutturata della media di Trestina autotreno finisce fuori strada Lerchi disagi e code lungo la via per Arezzo ex ospedale prime luci sul recupero diventerà la casa della salute incontri serrati tra comune e regione ma ancora non si parla di soldi e giovani PD siamo all'epurazione ad Umbertide polemiche dopo l'allontanamento di due iscritti la pagina di Foligno olimpionici in aula no al bullismo con le regole si diventa campioni ma saccesi e castellani incontrano gli studenti del Marconi l'allegria è terapeutica intanto arriva il carnevale dei ragazzi si parla poi del nero di Norcia si parla di tartufo nelle zone del terremoto tre weekend per rinascere la mostra contro il terremoto il sostegno alle imprese è fondamentale per farle ripartire dopo i gravi danni del terremoto andiamo con il messaggero si parla della città della salute nel vecchio ospedale di città di castello prende forma il progetto del recupero e riutilizzo del vecchio nosocomio cittadino c'è una serie di incontri il sindaco Bacchette fiducioso due vertici positivi il percorso con tutti gli enti interessati sta proseguendo a Gubbio il tunnel fa ancora discutere le opere pubbliche poi un vertice guerra interna al PD spuntano le nuove epurazioni ciocchetti i violini sono stati allontanati dalla segreteria giovani Gualdo il comune dice no ai risarcimento intanto polemica tra giochi e comune sempre a Gualdo Tadino si parla naturalmente di giochi delle porte siamo con la pagina di Foligno giochi in parchi e scuole scatta il piano manutenzione stanziati 25 mila euro per sostituire quelli inutilizzabili e pericolosi previsti monitoraggi specifici sulle strutture ogni 4 mesi bene noi ci fermiamo qualche spot pubblicitario torneremo subito dopo con le pagine sportive a tra poco